Ciao amici, oggi parliamo di prostata, in particolare di prevenzione. E per fare prevenzione servono tre cose, visite specialistiche, alimentazione e stile di vita. Un mio follower mi ha informato che a Padova si possono fare screening gratuiti per la salute della prostata e dell'apparato riproduttivo maschile, ad esempio presso la fondazione Foresta Onlus, chiamando il numero verde 800 100 123. Se ci sono altre iniziative come questa nella vostra città o nei vostri dintorni scrivetelo nei commenti, anche se non ne avete bisogno voi direttamente, magari qualcuno che vede il video o che legge, sì. Squaletto dice che nella fossa delle Marianne c'è un centro per la squalprostata, vero? Quando si parla di questi argomenti che sono seri è importante anche sdrammatizzare. È questo che dico sempre a chi mi chiede, ma perché fai battute parlando di prostata con uno squaletto di peluche? In realtà in molti mi avete scritto che proprio grazie a questo tono leggero e un po' scherzoso avete preso l'iniziativa e avete fatto qualcosa di concreto per la vostra salute. E io credo che questa sia la cosa più importante, siete d'accordo con me? Se è così mettete subito un bel mi piace a questo video, tanti mi piace, tanti nuovi video. Parlando di cose importanti, in tutto il mondo novembre è il mese di sensibilizzazione per i problemi di salute maschile e della prostata. Per ricordarselo e fare qualcosa di pratico e utile per tutti, due amici australiani hanno inventato e diffuso l'iniziativa Movember. In questo video spiego nel dettaglio come funziona e come partecipare. E ragazze, possiamo fare qualcosa anche noi di concreto. Sì, ma basta con tutti questi preamboli, dacci la notizia del titolo. Ecco la notizia. Secondo uno studio scientifico, dimagrire aiuta a ridurre il rischio di cancro alla prostata. Sentito squaletto bisogna svantire la pancetta? Ma aspetta, non sarà la solita fake news? Sul mio canale non ce ne sono di fake news, solo notizie vere. Quella di oggi è scientifica! È uscita nel 2008 sulla rivista di settore Cancer Epidemiology Biomarkers and Prevention. Per seguire tutti i miei video è facile, basta un clic così e cliccate sulla campanella delle notifiche qui sotto per essere avvisati ogni volta che esce un nuovo video. Allora, lo studio è stato condotto negli USA da un team di ricerca della American Association for Cancer Research. Ha analizzato i dati di 70.000 pazienti sull'indice di massa corporea e i fattori di rischio per il cancro alla prostata, come i valori del PSA. I dati sono stati raccolti tre volte a dieci anni di distanza, nel 1982-92 e nel 2003. Ma cosa hanno scoperto? Che mangiavano troppo fast food? In effetti sì! Gli uomini che erano ingrassati avevano fattori di rischio più alti e qualcuno aveva già manifestato forme aggressive di cancro alla prostata. Invece chi era riuscito a dimagrire almeno di 5 kg aveva ridotto notevolmente il rischio di cancro alla prostata. Non scappare! Da domani ti metto dieta, alghe bollite e corallini in bianco? Niente dieta, alimentazione consapevole! Se dimagrire diventa una punizione, indovinate cosa succede? Eh, che poi riprendiamo i chili con gli interessi? Giusto! Per dimagrire in modo trendy e sano, potete seguire i consigli di questa playlist. E se volete un coaching personalizzato con me, trovate il link in descrizione. Ora, condividete questo video con i vostri amici sui vostri social e mi raccomando, se avete notizie di iniziative nella vostra città per il benessere maschile, scrivetelo nei commenti. Parlo di cose serie e vanno prese sul serio, ok? E ovviamente partecipate alla Movember Challenge! Più siamo e meglio è! Noi ci vediamo al prossimo video, nel frattempo sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente! Ciao! Finito! Non scappare! Challenge! Negli stati di ricerca! Yeah, English!